...di incoraggiamento, vediamo dove arriveremo. Mi sei? Oh, attento con le mani, attento con le mani! Mi sei? Vai, buon cantine! Vai! Attenzione! Bellissima! Sì, siamo, e adesso è il momento di Rocco! Vediamo, vediamo, vediamo! Eccoci! Oh, attenzione, aspetta, lì, mi abbassa un attimo, c'è qualcosa che non va. Perché non dobbiamo abbassare troppo la testa per superare la corda. Dobbiamo restare in asse con le spalle e con il corpo. Adesso è arrivato il momento di Alessandro! Genial Alessandro! Guardate, attenzione alla testa! Guardate, attenzione alla testa! Guardate, attenzione alla testa! E... Barbara! Sei pronta, Barbara? Dai, Barbara, facci sognare! A tempi alla testa, dobbiamo continuare a guardare il cielo! Fino a quando non superiamo la stecca! Via! Oh! Giuseppe ci sistemiamo l'aria! E' il momento di Bertina! Eccola! Vediamo cosa succederà adesso! Dj assa la musica! Ce le stiamo distese! ba bene dai! eh... E' il momento di Marta! Azzaza! Azzaza! E' il momento di Marta! Azzaza! 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 Grazie. 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 Buona volta. Buona volta. Attenzione, guarda il cielo. Oh! Oh! Bravo! 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 Paolo, dove sei? Facci tornare Paolo! Facci tornare Paolo! Dai! Eccolo! 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 Grande Paolo! Eccolo! 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 Prontino! Vai! Buona volta! Buona volta! Buona volta! Alessandra! Buona volta! È un ba audio! Poi! È un ba audio! Abbiamo appare erile ad esempio... Allora ci ritroveremo giusto a passare la musica DJ E' giunta voce che è arrivata là Eccola, facciamo l'applauso alla nostra super presidente